ciao a tutti ragazzi devo fare ancora questo video i 12 ambisecchi di john per farvi vedere quello che è uscito stasera devo ancora controllarle tutte però qui ho visto qualche cosa di allucinante devo ancora controllare gli altri programmi alcuni le controllerò alcune estrazioni da torino in giù le controllerò insieme a voi perché devo ancora farlo quindi adesso ho fatto casa roma è uscita una situazione allucinante guardate qui 3 eventi roma 2 e 19 roba roba allucinante veramente però stessa cosa ho visto mi sembra in alto mi sembra prima visto a bario caldi rivediamo un attimo rivediamo un attimo insieme perché non me la ricordo più perché controllare tutti i programmi diventa impegnativo e è veramente un casino allora è un attimo bari perché l'avevo vista qualcosa di di simile allora 12 3 è uscito qua 12 il bari è uscito 12 il treno il 46 col 12 niente 65 niente 12 83 no il 83 non è uscito no solo a si e si eccolo qua 12 12 35 è uscito 12 36 è giusto mi sembra mi sembra giusto no meno male che palermo ha dato credo tre ambi in questo programma adesso lo guardiamo insieme e roma ve l'ho appena fatto vedere qui c'era tra i venti nel mio programma è qui uscito 12 a 9 ve l'ho appena fatto vedere adesso guardiamo il palermo sicuramente ha dato tre ambi perché quando dal terno di là qua credo che dia e 3 adesso li vediamo insieme allora dite un palermo ancora vedere quello degli ambi allora 29 87 e stasera palermo stavo mettendo a piangere uscito il terno secco dall'altro mio programma interno di giorno e qui sicuramente sono cd 3 ambi di un po allora scuola 48 45 sicuramente tre anni sono scuola 5 48 perché se di l'ha uscito il terno quindi di soldi sono tre ambi secchi 45 48 48 45 qui amo secco 48 30 48 30 che sono quelli che ho preso io però su quartina non ho messo lambo purtroppo non mi dite niente va meglio non ci penso e 48 due napoli due sciterò ma peccato io non la mia ce l'avevo e 45 30 eccolo qua tre ambi secchi 12 ambi secchi di gioie sono usciti tre ambi secchi è ovviamente non è sempre a qui vediamo un po 2 30 no qua 45 32 non ho qui solo ambo qui sono ambo in cornelli due quaterne qui solo lambo allora voglio ricordarvi una cosa perché spesso si si dimenticano un po tutti che allora che nel mio programma che avevo fatto prima ambo secco vincente praticamente sono i primi quattro ambi dei 12 ambi secchi quindi vediamo un po se stasera è uscito almeno uno nei primi quattro cioè se volete spendere poco per dire potete comprare questo spero queste qui ci sono solo quattro ambi secchi invece nell'altro è più sviluppato il sistema quindi c'è più probabilità però vediamo un attimo sono curioso di vedere il palermo se è uscito ma credo che uno sia uscito 29 87 76 12 e 36 48 45 se uno c'è corretto il 45 ambi 48 45 è lo ste ripeto questo programma ambo secco vincente l'avevo fatto per primo poi avevo fatto i 12 ambi secchi di john dopo l'avevo fatto lo sviluppato dopo mi lascio tutti i link sotto comunque i miei programmi di metà pagamento perché l'ho costruito io anche i calcoli fatti quindi ma li sono inventati questi calcoli stanno dando ottimi frutti anche se speso ci sono le ambate delle situazioni allucinanti come avete visto prima quindi devo finire ancora allora cosa volevo dire vabbè qui ci sono quattro ambi che sono gli stessi dei primi quattro dell'altro volevo precisarlo cioè di questo che faccio sempre vedere perché il più il più frequente come programma il più valido per la fine perché i terni e valido infatti stasera uscito palermo però è più raro alterna la quaterna la quaterna secca uscita giugno dell'anno scorso col mio programma le quaterne e quindi niente adesso vi faccio vedere voglio controllare si ma vuole altre torino perché devo ancora vederlo perché non faccio ma in tempo a volte il controllo dei programmi cosa è uscito cosa non è uscito e a volte veramente impegnativo e la star cipoli di cioccoli del tempo allora se c'è la precedente bisogna digitare per l'ultima vediamo un po' a turino sto vedendo insieme a voi perché non ancora vista 79 17 84 17 torino niente 79 3 niente 84 3 no forse questo non è uscito la cipa 4 12 7 30 18 7 2 no no questa nuova vediamo venezia 84 12 82 4 11 niente 38 11 niente venezia 45 niente 38 5 niente 4 36 niente mi sa che anche questa niente non è uscito niente non è uscito niente non è uscito niente vediamo nazionale sto controllo insieme a voi perché non 22 82 64 71 14 3 niente 45 niente 45 niente 45 sopra uscito niente 14 41 e 40 45 41 4 34 niente 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 388 niente niente, no mi sa che anche questa niente, niente nazionale neanche, qui è stato solo Palermo di tre ambi secchi, ve la rimetto di nuovo, guardate i verdi come cambiano se non vi fidate, allora 29, 87, 76, guardate i verdi come cambiano, 12, 36, allora qui ho avuto altri ambi secchi, ve l'ho fatta vedere prima, 48, 45, 48, 30 e 45, 30, niente, sono contento, devo controllare le altre perché non le avevo ancora viste, ci sentiamo al prossimo video, ah, voglio dire una cosa, allora io non faccio mai previsioni per il semplice fatto che è difficile, soprattutto il terno e quaterna sono rari, anche se il terno su Palermo era uscito di nuovo a, abbiamo oltre stasera, è uscito anche, mi sembra, a marzo, adesso non lo ricordo, tra l'altro non l'avevo beccato neanche lì, avevo preso solo due numeri come stasera, e niente, voglio dire che non faccio previsioni perché non, molto spesso non esce nulla e non voglio illudere o prendere giro dei miei iscritti, perché anche io stesso gioco i miei programmi, soprattutto su Palermo, e ci sono state delle estrazioni scorse che non è uscito proprio nulla, cioè su 4, 3, proprio, anche su questo, a volte non escivo, se escivo un numero era già tanto, però capita invece con la volta, come stasera, come a marzo, che è uscito il terno secco negli altri miei programmi, e quindi non so fare mai previsioni, non voglio far spendere soldi alla gente, perché sono 12 ambissecchi da giocare, non è uno scherzo, quindi io non vi dico come giocare, cosa fare, io vi sto dicendo solo le cose che faccio io e vi do le dimostrazioni, i programmi li ho costruiti, io li metto a pagamento per quel motivo lì, quindi niente, vi ringrazio, vi saluto, scusate lo sfogo del video scorso, ma è così, è più dovuto al fatto che non ho preso il terno, che mi sono un po' buttato giù, però speriamo la prossima volta, dai, ci sentiamo, vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi sempre di più se volete, lasciate il like se volete, fate quello che volete, ci sentiamo al prossimo video, e vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti, grazie a tutti, ciao. Grazie.